Due auto della polizia date alle fiamme alla stazione di Rimini, dietro l'attacco incendiario spunta l'ombra degli anarchici, avviate dalla Digos le indagini per individuare gli autori. Il Vescovo Anselme ha incontrato gli operatori del turismo in vista dell'estate, che le vacanze siano anche tempo di spiritualità, intanto gli albergatori di Riccione fanno previsioni sulla stagione. Inaugurata oggi la riqualificazione della casa della comunità all'interno dell'ospedale Franchine Sant'Arcangelo, l'obiettivo è una maggior cura delle patologie croniche. Volley femminile Lomag trasloca il play-off di Riccione per la semifinale play-off con Brescia. Questa mattina la presentazione dell'appuntamento. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Caro TG. Spunta la pista anarchica dietro l'attacco incendiario avvenuto nelle prime ore del mattino a Rimini. Verso le 4 e 3 quarti due auto della Polizia di Stato, parcheggiate nel perimetro della stazione ferroviaria, proprio davanti al gabbiotto della Polfer, sono state date alle fiamme dai gnoti che poi si sono dileguati senza lasciare apparenti tracce. Le fiamme che hanno avvolto le vetture, rimaste in parte carbonizzate, sono state domate nel giro di poco. Sul posto sono intervenuti a stretto giro gli uomini della Digos, che hanno avviato le indagini, subito acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato due persone incappucciate a allontanarsi. Gli investigatori hanno il forte sospetto che dietro all'attacco incendiario ci sia la mano degli anarchici, anche se l'azione al momento non è stata ancora rivendicata. Nelle scorse settimane in città erano spuntate alcune scritte sui muri che chiedevano la liberazione di Alfredo Cospito. L'anarchico recluso al 41 bis che ieri ha interrotto lo sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre dello scorso anno. Intanto questa mattina il prefetto Padovano ha convocato d'urgenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine nella sicurezza pubblica. Ora una notizia di cronaca giudiziaria. Assolti perché il fatto non sussiste. L'ex sindaco di Sant'Arcangelo Mauro Vannoni, all'epoca dei fatti responsabile dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l'ex genio civile, e Fiorenzo Bertozzi, dirigente dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati dichiarati dal Tribunale collegiale di Rimini non colpevoli dell'esondazione del fiume Uso che nel 2015 provocò danni anche ingenti in alcuni casi in diverse zone tra Sant'Arcangelo e Bellaria. Vannone Bertozzi, difesi dagli avvocati Mariano Rossetti e Paolo Righi, erano a processo per inondazione colposa. L'alluvione del 2015 fu provocato dal fiume Uso che esondò colpendo soprattutto Sant'Arcangelo dove due famiglie furono addirittura costrette a fuggire da casa per mettersi al riparo. Il perito della difesa ha dimostrato come gli allagamenti furono causati da un evento eccezionale e non furono imputabili alla cattiva manutenzione del fiume da parte dell'Agenzia di protezione civile. Inoltre i danni potevano essere limitati con la puntuale pulizia dei tombini, un compito che però non spettava ai tecnici dell'ex genio civile. Sala Manzoni-Gremita ieri sera per l'incontro, il primo di questo genere organizzato dal Servizio pastorale del turismo e dal Vescovo per parlare dell'estate. Sono intervenuti i responsabili di tante categorie impegnate a vario titolo nel turismo ma anche operatori e sacerdoti. Vediamo. Bagnini, albergatori, agenti di viaggio, guide, chioschisti, oltre 200 persone impegnate nell'ambito turistico hanno risposto all'invito del Vescovo di Rimini per guardare insieme all'estate. Sin dal suo arrivo Monsignor Anselmi ha accolto la presenza dei milioni di vacanzieri che ogni anno scelgono la riviera come un elemento che deve segnare il cammino della diocesi. Oltre alle comunità cristiane le persone che più di tutto possono intercettare questi turisti sono il mondo dell'accoglienza, degli albergatori e quindi ho pensato di poter parlare loro, di farli sentire, perché lo sono, importanti sia per la loro possibilità che hanno di entrare in relazione con queste persone e di sentire anche alleati della comunità cristiana, alleati di Dio per il bene delle persone che incontrano. Ad Arillalla serati membri del servizio della pastorale del turismo, qui sono seguiti una dozzina di interventi sul come far diventare la costa riminese sempre più accogliente ed inclusiva. La Romagna ha una particolarità nell'ambito del turismo che ha un ritorno della clientela con una percentuale altissima, proprio perché qui la gente vive un'esperienza di accoglienza che è diversa rispetto al resto delle altre località turistiche, proprio perché qui da noi c'è la gioia e il sorriso di accogliere i nostri ospiti quando vengono a trovarci. Rimini è vera, è stata fatta dai riminesi, dalla laboriosità dei riminesi che sono stati capaci di fare risorgere una città devastata nella seconda guerra mondiale, è divenuta comunque dopo pochi anni di nuovo meta del sogno di tanti turisti italiani e stranieri. Il turismo ha una grande potenzialità, quella di mettere in relazione le persone che credo a Rimini hanno sempre trovato un terreno fertile per questo. La diocesi ha realizzato un cartoncino di benvenuto da appendere nelle varie strutture dal titolo Gentili turisti, pace a voi e c'è l'idea di aprire laddove ancora non avviene le chiese del litorale fino a tardasera. Il desiderio del Vescovo è che per i turisti le vacanze possano essere occasione per incontrare una comunità cristiana viva. Nel benessere, nel riposo, nella gioia che hanno sperimentato sulla spiaggia o sulle colline o in bicicletta ci sia anche la gioia e la bellezza di momenti di spiritualità, di momenti di interiorità. Quindi abbiamo un ricordo della bellezza di Rimini a 360 gradi. Al tema sarà dedicata la puntata di domani sera dei giorni della Chiesa in onda dalle 20.35. Che estate sarà per il turismo riccionese? È la domanda che ha cercato di sondare l'indagine promossa da Federalberghi Riccione che ha coinvolto gli olbergatori della Perla Verde. Vediamo. Ottimisti sulle presenze, molto preoccupati per guadagni e utili. L'osservatorio Luigino Montanari di Federalberghi Riccione in collaborazione con il CAST dell'Università di Bologna ha sondato tramite un'indagine quello che gli albergatori riccionesi si aspettano dall'estate. La stragrande maggioranza degli operatori intervistati attende un'estate con un numero uguale o più alto di turisti nelle loro strutture. Sul fronte del fatturato invece c'è quasi un 10% che teme vada peggio o molto peggio dell'anno scorso. I pessimisti salgono al 24% nella domanda che riguarda i guadagni, visto che la marginalità di imprese è fortemente messa sotto pressione dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, ulteriormente aggravata dagli effetti dell'inflazione. Resta però un'ampia fetta fiduciosa anche su questi versanti. Alla domanda su quali siano le criticità a cui far fronte nella gestione, al primo posto si confermi il reperimento di personale, in particolare quello di sala e cucina. Al secondo posto emerge il tema del finanziamento d'impresa che, a causa dell'aumento del costo del denaro, ritorna centrale per la sopravvivenza e la crescita del sistema turistico. Sul terzo gradino c'è l'aumento del costo dell'energia. Per quasi un 40% degli intervistati risulta critica o molto critica anche la concorrenza con altre destinazioni. Poco sentite invece come criticita la mancanza di presenze a causa del conflitto in Ucraina. L'aumento dei costi verrà coperto solo in parte dall'aumento dei prezzi. La maggioranza degli alberghi continuerà ad applicare anche nell'estate 2023 le stesse cifre o solo piccoli rialzi rispetto al 2022. I mercati di riferimento per gli investimenti in promozione rimangono la Lombardia, che è il più importante, l'Emilia-Romagna, la Germania e la Svizzera. Sanità, i conti non tornano. Questo è il titolo della puntata di Fuori dall'Aula andata in onda ieri sera. Un approfondimento dedicato alla situazione di un settore fondamentale per i cittadini, ma alle prese con problemi di risorse che preoccupano anche in chiave futura. Tra i tanti interventi proposti, noi vi proponiamo quello della dottoressa Esther Pasetti, segretaria Nao Assomed Emilia-Romagna, la principale sigla sindacale di medici e dirigenti sanitari. Mi spiace dirlo, ma il nostro sindacato da più di dieci anni annunciava il fatto che saremmo arrivati al punto in cui siamo, ovvero al punto che viviamo da diversi anni in cui è difficile e in alcuni casi impossibile reperire degli specialisti in alcune branche della medicina. La situazione è ulteriormente aggravata dall'ennesima congiuntura economica sfavorevole che si abbatte su di noi e che in questo caso, forse per la prima volta in maniera importante, si abbatte anche sulla regione Emilia-Romagna. Da inizio anno c'è di fatto un blocco delle assunzioni degli specialisti, assunzioni che avvengono col contagocce quando avvengono oppure non avvengono nemmeno e tutto questo avviene in una situazione di importante carenza organica determinata sia dalle uscite dei pensionati, che sono tantissime, e sia dagli abbandoni di chi non è più in grado di reggere lo stress del lavoro nel servizio sanitario così come lo stiamo vivendo in questi giorni. Le aziende sanitarie, purché aziende, producono salute, non producono benefici economici. Leggo in questi giorni di alcune istituzioni private che pubblicano fatturati stellari e che quindi sono anche felici di quanto hanno prodotto da un punto di vista economico. Il Servizio Sanitario Nazionale non nasce per questo, non nasce per produrre economia, nasce per produrre salute e benessere di tutti i cittadini. Si tratta di un bene che è garantito costituzionalmente e mi piacerebbe che dopo 45 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale tutti si interrogassero su ciò che stiamo perdendo. Per le cose importanti i soldi si devono trovare, poi non ci devono essere sprechi, si deve cercare di investire al meglio quello che si ha a disposizione. Non dimentichiamoci che qui stiamo perdendo un diritto costituzionalmente garantito e lo stiamo perdendo per i più deboli. All'assessore Donini chiederei di considerare il fatto che il blocco del turnover è il danno più grande che si sta facendo ai professionisti e anche ai cittadini, quindi di tornare ad assumere comunque. Parliamo ancora di sanità. È stata inaugurata oggi la riqualificazione generale, il riassetto funzionale della Casa della Comunità all'interno dell'ospedale Franchini a Sant'Arcangelo. Un nuovo passo verso una nuova organizzazione dei servizi sanitari sempre più votati alla cura delle patologie croniche. Un servizio che eroga prestazioni di primo livello agli utenti della bassa Val Marecchia per la presa in carico delle persone con patologie croniche o in condizioni di fragilità sanitaria e sociosanitaria. La Casa di Comunità è sede del nucleo di cure primarie strutturato di Sant'Arcangelo Verucchio, composto da 28 medici di famiglia. Cinque operano in gruppo all'interno della sede, gli altri hanno ambulatori decentrati collegati in rete e garantiscono l'attività nei comuni di Sant'Arcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Il riassetto funzionale della Casa, della Comunità, del punto prelievi e del consultorio ha visto un investimento di circa 500 mila euro con finanziamento regionale. L'attivazione della struttura è prevista per maggio. L'accoglienza in questi presidi ospedalieri è fondamentale quando riguarda il nucleo, non solo il paziente che ne ha necessità ma tutto il nucleo di riferimento. E questo fa tutta la differenza del mondo perché un conto è avere un ospedale e un presidio ospedaliero e un conto è avere un ospedale con una casa di comunità dentro, con un osco funzionante, con una casa della salute, con un post-acuti lungo d'agenza e medicina che rappresentano veramente la completezza di un servizio socioassistenziale dal paziente alla malattia al ritorno al nucleo familiare. È l'avvicinarsi al quasi completamento di un percorso di realizzazione di quella che noi potremmo definire tranquillamente una cittadella della salute che ha come prospettiva di riferimento una popolazione di circa 40.000 abitanti. Presentato anche il bilancio del primo anno di attività dell'ospedale di comunità, l'età media dei pazienti che ricevono soprattutto riattivazione motoria e supporto riabilitativo è di 83 anni per un'adegenza media di 24 giorni. Alla dimissione il 62% degli utenti è tornato al domicilio. Il tasso di occupazione dal 70% iniziale è arrivato a oltre il 90%. Voltiamo pagina. Dopo quella sui dinosauri, l'acquario di Cattolica si arricchisce di una mostra dedicata agli insetti giganti. La novità 2023 è stata presentata oggi. Vediamo. Piccole creature che diventano grandi, anzi giganti. All'acquario di Cattolica è stata presentata la mostra didattica In Setti Giganti XXL Edition. Sarà visibile fino al 2025, compresa nel biglietto di ingresso. Oltre 70 i modelli 3D realizzati a mano in resina è ingranditi anche fino a 200 volte, senza bisogno di microscopio. Ad arricchire l'inaugurazione, la performance dell'artista Lorenzo Possenti, curatore della mostra che ha riprodotto un enorme coleottero in resina in tempo reale, dimostrando che scienza e arte possono andare di pari passo. La mostra si arricchisce di un'esperienza ludico che dà la possibilità a tutti i bambini di poter osservare, grazie a queste riproduzioni, insetti in forme giganti, senza l'utilizzo di lenti o di proiezioni. Le dimensioni contano. Ci sono formiche di 5 metri, ci sono amanti di 2 metri e mezzo, che sono molto intriganti, perché quando sono ingranditi così tanto i modelli si possono vedere appunto senza microscopio, si può andare alla bellezza della natura senza microscopio, anche in gruppi. E poi sono in posizioni, io cerco di mettere il più possibile in posizione verticale, in modo che si possano vedere su tutti i lati, perché sono belli sia di schiena, come normalmente si fanno vedere, che anche di pancia, si vedono proprio i meccanismi del movimento degli insetti, i colori. Penso che la gente sarà colpita appunto dai colori e dalle forme di queste riproduzioni giganti. In chiusura allo sport, volley di A2 femminile, l'OMAG-MT trasloca al play-all di Riccione per la semifinale dei play-off con Brescia. Questa mattina la presentazione dell'appuntamento con Gara 1 in programma domenica alle 17. Sarà il play-all di Riccione, la casa delle zie dell'OMAG-MT, per la semifinale dei play-off di A2. Gara 1 in calendario domenica alle ore 17. L'avversario è l'ultimo affrontato e superato dalle Maregnanesi nella pool promozione, Val Sabina Millennium Brescia, che è chiuso al quarto posto, alle spalle proprio della Consolini, terza. I biglietti sono disponibili su live-ticket.it al prezzo di 10 euro. Gara 2 in programma a mercoledì 26, al Palasport Jimmy Giorgio di Montichiari. L'eventuale gara 3 al play-all domenica 30 aprile. Lo ritengo un evento veramente di prestigio, giocato in una location molto prestigiosa, tant'è che il play-all ha grandissime difficoltà di reperibilità, proprio perché ha un calendario fittissimo di impegni ed è sempre ricercato da tante federazioni sportive nazionali. e quindi sono molto contento che proprio questa settimana il play-all fosse libero e disponibile per permetterci anche proprio di allestirlo e di farci allenare la squadra. Dal punto di vista sportivo, è una semifinale aperta probabilmente a qualsiasi risultato finale. Io sono abbastanza convinto che se noi giochiamo bene, però possiamo dire la nostra, perché siamo una squadra che quando gioca bene forse ha qualcosa in più di altre avversarie. Di spiacere c'è non poter ospitare il nostro palazzetto, ma noi abbiamo un palazzetto che per le sue dimensioni non è in grado di portare avanti i play-off, però abbiamo avuto anche qua, siccome OMAG-MT è una realtà molto valida, quando abbiamo chiesto a Riccione la possibilità di ottenere il play-off non c'è stato nessun dubbio, quindi va dato merito e va riconosciuta questa voglia di collaborare anche tra enti. Quindi grazie di cuore al Comune di Riccione che potrà attraverso il suo palazzetto ospitare ma vedere una pallavulo molto molto importante con delle ragazze molto molto importanti. È bello pensare di poter stare ancora in palestra con queste ragazze, giocandosi qualcosa di importante. Credo che ne siamo consapevoli tutti, società, tifosi, ragazze e staff, e quindi affrontiamo tutto con la spensieratezza, l'aggressività che abbiamo messo insieme in questi mesi e che ci ha portato a grandi soddisfazioni fino ad oggi. Adesso arriva il bello perché adesso si apre un campionato nuovo e siamo felici e felicissime tutte quante di poter affrontare questa partita con l'affetto anche che ci potranno dare i tifosi o la gente di Riccione e quindi niente, ce la godremo al massimo, daremo il meglio di noi sperando e incrociando le dita per quello che potrà succedere. Della sfida fra Consolini e Brescia si parlerà questa sera nel corso di Icaro Volle in diretta su Icaro TV dalle 20.35 alle 22.00. ospiti in studio il vice allenatore dell'OMAG MT Alessandro Zanchi il vice allenatore della Prime Cleaning Riccione Diego Casadei insieme ai giocatori Matteo Alessandri e Alessandro Campi le giocatrici della figurella Rimini Federica Amazza e Martina Cucina e gli arbitri Ilaria Zoffoli e Tommaso Piccinini È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il TG grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di una buona serata a tutti i programmi del gruppo Icaro